Leggeri, a braccia aperte sul mondo, insieme per guardare l'orizzonte che i colori della nostra bandiera, sospesso in bilico davanti ai sogni. Nel 2013 abbiamo scritto una pagina del nostro grande libro. Oggi più che mai non ci sono distinzioni tra slalom, discesa, velocità, polo, maratona, paracanoa. Ogni esperienza è un qualcosa da condividere con tutti voi che siete la nostra squadra più bella. Un anno intenso di gare, le emozioni ci hanno tenuto i svegli fino a tarda notte. Ogni grande risultato, ogni grande vittoria nasce da una grande motivazione. Anche una pallina da slalom in acquaferma può essere l'inizio di un sogno. Anche se a guardarla così non diresti mai che potrebbe essere il primo passo per il trionfo. E invece sì, per vincere loro a cinque cerchi, ogni grande campione è partito dalla sua pallina, dalla sua acquaferma. Se la guardi e basta, ti fermi e smetti. Se la guardi e ci credi, con passione, può diventare il grande inizio di un'ancora più grande storia. L'ispirazione crea azione. Ecco perché senza la passione non si può percorrere la strada del successo. Battono al ritmo delle ridondanti e costanti pagaiate. Battono all'unisono in una squadra. battono avvolti dal tricolore. Battono perché insieme i nostri cuori fanno più rumore. Il battito accelera se c'è passione. Accelera ancora di più se c'è amore. E pian piano si trasforma in forza. Ma la vera grandezza non è nella forza e nel suono che insieme fanno i nostri e i vostri cuori. Ognuno di voi contribuisce al battito che ci tiene in vita. Le storie più belle le raccontate con un sorriso. Insieme stiamo andando lontano. E le medaglie che avete al collo lo dimostrano. Con voi abbiamo vinto tutti. Nella vita si cade e ci si rialza. Le medaglie si costruiscono giorno per giorno. Crescere insieme verso grandi obiettivi con costanza, sacrificio e sogno. Stiamo lavorando tutti affinché le medaglie del futuro stiano al collo dei nostri azzurri. Pagaiamo per il presente. Sogniamo di pagaiare per l'avvenire. Impariamo dalle pagaiate del passato. C'è chi in questo 2013 si è addormentato con una medaglia al collo. Chi le notti le ha passate in viaggio di ritorno da una dura trasferta. Chi ha alzato le braccia al cielo dopo aver segnato un gol. Chi ha tagliato il traguardo con gli occhi colmi di speranza. Chi ha battuto se stesso oltre al cronometro. Chi dopo mille gocce di sudore ha conquistato un po' di azzurro. Chi oltre a guardare il traguardo guarda il futuro. E ci permette ogni giorno di comunicare la passione. Che è la nostra e la vostra forza. Per chi a pelo d'acqua insegue i sogni.